Amici del cacchio Dai fammi creare una partita Comunque dicevo a Moro che a me manca Budi In questo gioco La prossima volta dobbiamo prenderla schiaffi nella faccia E non manca Vedi non ci vuole Quindi non solo Non solo Non solo Io Adesso non mi ricordo cosa stavo dicendo Però Pene pepene Pene pepene Moro l'hai preso il giochino su steam Mi è venuto in mente perchè ho visto il carrello adesso Io l'ho comprato Anche io l'ho comprato non vedo l'ora di farlo Tra l'altro Esprit è l'unico Ciao Roscia Inizia la notizia Da domani esce Red Dead Online E noi non lo facciamo No no non lo facciamo Noi non lo facciamo Aspetta amici mi confermate che in alto a destra Non do fastidio se metto il logo di Thermos In teoria non dovrebbe essere Non credo ci sia Non credo amici Però confermatemi in caso Perché Aspetta No al massimo sono gli altri che sono bassi Perché Streamlabs ormai fa cacare I pomodoracci Grazie mille Grazie a tutti Mi scrivo la password Nella stanza dei subs Adesso dovrebbero essere più alti loro Perché Non so perché Streamlabs ultimamente mi abbassa Non c'è il tempo in alto Vabbè dopo guarderai Vabbè ma è il tempo Poi è il tergantesco il tempo Il problema è che Allora aspettate Facciamo direttamente così allora Sistemiamo subito Perché Magari in alto a sinistra Marco Esatto Lo metto in alto a sinistra Direttamente Non già pensiamo più Vabbè in caso lo sposto comunque dopo Ma si può ancora abusare del buon Morelli Per chiedere info riguardo powerbank decente? Non lo so Eh sì Eh siamo full Gianmarco tagliapietra grazie mille Grazie Gianmarco tagliapietra Grazie Cazio cazio Ammiraglio arctic Non l'ho mai visto giocare con noi Volevo fare il batterista Vivera in una camera Vai forcatrona Ma io non sono capace Ho messo le collisioni Eh sarà meglio Amici ma a volte sapere una cosa che non ve ne frega niente Ma è una cosa che mi ha fatto ridere però Marco per cortesia Eh lo vedo molto preso Morelli È la prossima Ho cercato Guardavo gli sconti anche del Play Store Perché ormai ho deciso che a parte i film A cui sono affezionato che prendo fisici Altri li prendo tutti online su Google Films Ho guardato anche i giochi Non gioco su telefono come dicevo nella live del telefono Però ho guardato un occhio così E c'era Golf Praticamente Golf with your friends per telefono Uguale Identico Era proprio uguale E nei nomi esempio c'è Mark Di quelli che tirano Ma che cazzo Vabbè però Ma ha fatto ridere Cosa ho fatto? Ho toccato il microfono Sì Era il Io sto vedendo un pezzo di catrame Penso Un bloccone Un caccone di torte Adesso vediamo se Se no Se no Eccolo Adesso vedo le colline Ma guarda che porcheri Questa è Pierpollo Questa è Pierpollo Che musica adiacente che c'è Sembra una musica di Di minecraft Di minecraft Sembra Only one Only one Kenobi Anche io Ok Only one Kenobi Tranne No tutti mi se l'abbiamo fatto Non è vero Potrebbe non essere Franchino Franchino Un è caduto Thunder Thomas Niente Thunder Thomas è caduto Chi è che Il panino è dark Mark mi sa Non è nero lui La palla nera Io non lo vedo Holodemon Holodemon Come fate a vederlo Adesso lo vedo Bravo bravissimo Ma sono caduti dei falli Dei sauce Marco Dei sauce Dei sauce Dei sauce Dei sauce Sembra uno dei falli Amici Sarà che sono Guarda sono falli Ragazzi Vabbè Quasi tutti Tranne due Ciao Sara Anzi non ti saluto Sempre bello Pier Ma cosa non ci vediamo Pier io gli bacio la bocca Massimo potenza Sulla fiducia Io non la faccio Io no Purtroppo Ho tirato troppo piano Parca vacca Ma non ci sono le collisioni Gli Ezzar Di che ci sono L'ho messa Non ci sono Gli Ezzar Ma l'ho messa Mi hanno attraversato tutti Non ci sono Probabilmente qualche mappa Penso che sono custom Magari le toglie Non dire le cazzate Facciamo La rivolta Come si chiama La rivoluzione Chiamo un comitato Non so come Vabbè Facciamo così Che figura diventa Porca vasca Eagle 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 No ma l'ho settato Squeezy Il problema è che probabilmente Caneverly Caneverly Perché magari rende impossibile Alcune buche Quindi niente collisioni La prima partita Sono molto triste Amici Aveva tanto Mi facciamo in fretta La prima partita Ma che hollow di Non lo spoilerate Il video Non spoilerate Il video di Worms Bonni tutti Però andatevelo a vedere Chi non l'avesse visto Correte a vederlo Dopo la live Dostra di Gatto Andate qua vediamo È comunque un giorno speciale Sì Sono uscito Niente Sono uscito fuori Non volevo Cacca dura Il dottor la misura La misura Ah Marco di merda Chi dici A me Cosa ti ho fatto io Caneverly Par di palle Ho fatto schifo Ho fatto schifo comunque Senza spoiler Ho pianto Porca vacca Mi è fregato Mi è piaciuto Mi è piaciuto Il video Mi è caduto sotto Ma che è successo Ma che ho visto Perché saltano Un po' di a caso Ma che buco Che ciaff Che ho fatto Ciaff Mica cioff O ciuff O quel che l'è Ciaff Io sono Incredibilmente A metà classifica Ma non è possibile Faccio cacare Cosa sono le risposte predefinite Di Google Home Che sono le risposte predefinite Le routine Dici Allora Credo di aver preso Una strada Che sicuramente Mi porterà Alle feci Sono le routine Dall'applicazione Di Google Home E ora Sfrecciate Si poteva fare in uno Questa Si si poteva fare in uno Perché non sapendo La situazione Invece non ci poteva fare in uno No beh Se tiravi forte Si poteva No ma c'è anche la conchetta Lì alla buca Secondo me ce la si poteva fare Eh ma non Ti rallentava troppo Lì I pizzarielli In fondo Quindi non posso spoilerare Che alla fine Invece di Roti È comparso Eugenio Massari E niente Ormai l'hai detto C'è più gusto ragazzi Rovinate sempre tutto Ma io sono T'è vero Che sto giocando male Dai No Ce la capino La prossima volta Ma non è vero Che sto giocando male Mi ribello Io quanto sono Polino Adorei a sal Il buco è perfetto Cacca dura Questa è tosta Ecco E dildo nel sedere Che mi sono Grappato Non è tosta Non è tosta Sono fantasticamente Particolare io Eh Tre tiri ho fatto Bravissimo Pasquindustry Bravissimo Troppo Ah No devo rifare tutto il giro Allora Ammiraglio Arctic Vediamo cosa fa Pachiderma Anziano Guarda eh Paffanlardo Adriano Vediamo se mi ha risposto Dai Malaticcio Quello Ok Budi vergogna Degli streamer Abbasso Budi Ma non sono primo mai Ma sono quarto Direttore Allora Di qua dove ci vamo Ah ok Bisogna andare di là E poi c'è una situazione Veramente terribile Speriamo di Parca dura Ho sbagliato Ho fatto veramente Un bucato del culo Che ho fatto Sono tornato all'inizio Santanumi Noi Che Ma c'è sto palo Ma che vorrei Un quattro L'ho fatto Caccaduta di massi Caccadura di massi Guarda E papà Addirittura Femba Adesso Sageriamo Fortissimo amici Forti Par Par di palle Par di palle Ciao Bored Buonasera Buonasera Sadamusein Niente Come? Ma dai È caduto giù Che twist Non volevo dire che twist Volevo dire che glitch Allodemon Continua a cacare Dei fallini Comunque per me Mi sa che la sua skin Non ce la farà mai A dire il tuo nome Che appai Impossibile Mi dispiace Lo so infatti Non ne farò più Però l'ho trovata Al 98% Noi abbiamo perso il ride Perché eravamo in 4 Non ce l'abbiamo fatta Per poco 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 Anche l'ho provata in 4 Non si riesce Come avevi detto Si poteva in 4 No L'avevo letto sul gruppo Io in 4 Proprio Proprio Adatti Il fatto è che ti consiglia Metacross Ma non è vero Perché l'attacco base È sbagliato Perché è psico Mi sembra No non è psico No non è psico Non mi ricordo Comunque l'attacco L'attacco base Dice Io ne ho 2 Entrambi non andavano bene Anche Cabuterimon Robert e Cabuterimon Entrambi Robert che dice Un anno dalla laga Un anno con lavoro Un anno da figlio Grazie caro E Cabuterimon? Cabuterimon 21 Come 2 più 1 Più 18 Giustamente Grazie a tutti Arda anche a me Mi fa schifo Cresselia No fa schifo Ma l'ho preso semplicemente Appunto per averlo No dove sono fatto? Ma non eri veramente Un'ottima enfatizzazione Sono caduto Grazie Marco Mi ci metto d'impegno Ok ci ha messo quel quarto d'ora 20 minuti Per risistemarsi Allora devo fare una cosa Ah merda Oh cacchio Facciamo così E sono già al quarto Liezer Però forse il quarto È quello buono Allora c'è una merda Ce l'ho fatta Non è vero Per un pelo del mio naso No dai sono caduto E ho fatto 5 E niente Albion Buonasera Amici avete preso cose al Cyber Monday? Io no Cioè forse prenderò un telefono Perché Per varie peripezie Però Forse Lo prendo sicuro Non è che forse No io anche ho preso un telefono E un tablet Per me però È di azzario Come? Perché lo cambi? È perché non funziona la vibrazione Quindi mi ha rotto le balle Ho anche formatato Non cambia Per cui Ostia però cambiare il telefono Per solo la vibrazione Eh me lo Tanto me lo Fortunatamente Sono nella garanzia Quindi mi restituiscono Tutti i soldi che ho speso Per cui Mi compro un altro telefonino A modo Non lo so ragazzi Adesso dopo Con Moro Guardiamo un po' di recensioni E vediamo Perché Non prendi quello che ho preso io Per il mio padre Che figo Allora La diatriba è Xiaomi a due Non light Honor 10 però Devo metterci di tasca mia Dei soldi Oppure il P20 light Che è l'altro che ha Che Lo Xiaomi è quello che costa meno Ed è comunque buono Però È migliore di quello che abbiamo E adesso Vediamo adesso Tutti sta dicendo P20 In chat Però vabbè Vediamo adesso Ma ci sono due Nei possibili buche Vabbè vado di là Io vado Può saltare? Vado da official shun Sono fortissimo amici Dai Non posso fare only one Guarda che figura Che ho fatto Ho fatto una figuraccia Ho fatto Tutti La maggior parte Ha detto P20 Però ad esempio Squeeze ha detto Che fa schifo Telsius Chi è che ha detto Che fa schifo? Ah Ben tornato Eh Felix Sì Cambio telefono Non mi fa azione Vibrazione Ah no Porca vacca Ma porca vacca Gli intendevi il gruppo? No però Da fastidio effettivamente Se non si sente la vibrazione No io vivo con la vibrazione Il fatto che non vada Mi Non sento niente Ma infatti Saranno anni Che non ho La suoneria Io Il P20 Costa 400 E passa euro Eh lo so ragazzi Volevo rimanere Intorno ai Dai 200 Ai 200 Esatto Avessi avuto quei soldi Assolutamente Oddio Un edificio questo Eh Gli hanno fatto la cacca per terra Io Ma dov'è la buca? È giù 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 È giù 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 Ah che sedere è L'honor c'è il mio padre ed è figo C'è anche Dubbo l'honor Mi sa che si sta trovando bene comunque Dubbo con l'honor Che buca Par di palle ho fatto Ma chi è questo qua con il caschetto da vigile del fuoco? Simone Green Cube No ho preso un'inculata grossa come il mio pene Quindi molto piccola dai Costicchia Dovrei metterci Praticamente un 100 euro di mio No non è vero No non è vero Di meno Ma sì OnePlus 6 si trova comunque intorno ai 500 euro L'ha preso Vertia in quello lì Come ho detto questo Anche perché i OnePlus non calano di prezzo quasi per niente Ma che caspita di buca è Guarda come se la fa in uno Sì ha fatto in uno Cadi 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 Non cade 10 10 10 10 10 10 10 10 Yeah Guarda che si fa in uno Ho fatto due tiri Anche io Anche io Anche io Morelli 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 Se c'erano le collisioni Le collisioni mi battevi Ora ho il P10 Lite ragazzi Parlo aggiustare Gli ridanno Semplicemente lui ha detto Ho chiesto ad Amazon E rimborsare Ah sì E gli hanno detto Guarda ti ridiamo tutti i soldi che hai speso E' ottimo Che tiro era questo qua amici Sono dato della terza Ho fatto un tiro delle palle Sono veramente un ritardato io Ma dov'è la buca di qua Ah bisogna vedere in quale in mezzo Bisogna andare Io sono attorno a prima Senza volerlo Per carità Che poi mi dispiace Perché appunto Tolta la vibrazione È un telefono che mi sta andando bene Nel P20 Il P10 Però Appunto Io con la vibrazione ci vivo E mi dà fastidio Ciao Franci Poi farlo aggiustare Appunto Se mi ridanno i soldi Meglio così Mi prendo un telefono meglio Perché comunque un telefono Di due anni fa Il P10 Poi per carità Vi ripeto Va bene il P10 Non è che non va bene Morelli Cacca Ok E siamo Le Marche Il secondo Dai zitto Adesso come me l'hai idea Non me ne ero accorto Adesso come me l'hai detto Mi sento sotto pressione PEM PEM Morelli Sono fuori Dal tunnel Io non l'ho fatto Al massimo Mi è andata comunque di là E mi è andata di là A me No due tiri ho fatto Dai ci sta Ma scusa Ho fatto uccello Il P8 ti lascia Ma dai Eh Dopo tre mesi Korn Dopo un anno e mezzo Quasi Però Sì No effettivamente È già il secondo È già il secondo Huawei Che ho qualche problemino Me l'ha dato Il primo era un difetto di fabbrica Il secondo Appunto È andato fatto così Perché poi non conosco Sarei tentato di provare qualcosa Solo che Io da quando Asus ha iniziato a fare i telefoni Ne ho sempre sentito parlare male Pranne da Ma io sentivo I telefoni erano buoni comunque Eh io ho sentito Ma dove devo andare Ma scusami Una volta che vai dall'altra parte Poi come Ah di tornare dietro Ah sotto Ok Allora Eh no Così no Sì Allora il primo era una schifezza Proprio come l'avevamo programmato E va bene Cioè va bene Non va bene Sono caduto Mortacci mie Io il P10 radio a due anni Mi ha dato un problema Ma infatti ragazzi Semplicemente è mandata male a me Non è che Huawei culo adesso Però Insomma Un po' ti girano perché Comunque un difetto che c'è al telefono Devi star lì a fare cose Rimborsi eccetera Ma Corna L'hai preso tu l'OnePlus poi? Ma che ha preso Che ha preso Ma devi aspettare Dicembre inoltrato I Light sono una cacata Ma ne parlano tutti bene Cioè anche Tipo Galeazzi Nelle recensioni Ne ha sempre parlato bene Dei Huawei Light Poi vabbè Io come metore di paragone Ho Galeazzi Che non so effettivamente Quanto sia attendibile Però Fa le robe di telefoni da anni Penso sia bravo Poi sicuramente Se quello che non gli piace Dice No Galeazzi È un Gioppino Meglio Pino Insegno A fare il telefono Giampiero Galeazzi Certo ragazzi Sì sì E lui Sua volta di ostia Ehm Sanciamo Sainz Camper No Moro sono giù Sono Dave Giuntoli Io sono Dave Giuntoli Non più Non più Non più ormai Sono tagliato i capelli Non è vero Marco lo sai più adesso Che prima Ma non dì Faccio in uno Eh sì No in due No mi sono tagliato i capelli Di nuovo E beh Eh vabbè Adesso ce l'ho cortissimi Ai lati Come faccio a essere Dave Giuntoli Anche lui Nell'ultima stagione Io ho avuto il P8 Lite 2017 Dopo un anno e mezzo Si spegneva al 45% di batteria Molto bene Anche Ma io Allora Per esempio C'è qualcuno che ha avuto problemi con Xiaomi invece Scorsa New Zeltat 2,20 euro Per culpa della scuola Non ho potuto seguire 2,3 live Probabilmente sarà così Per il resto della settimana Piango Però non smetterò mai di sostenermi Sei molto gentile Eh sì 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 la scuola Guarda Cosa sto vedendo però Io sto vedendo Pasquindustri Un attimino Forse glicciato Può essere Ma non sono sicuro Non so Scenderà prima o poi Diciamo Io ho avuto problemi Di virilità Bello parlare di telefoni Quando mi si è rotto proprio oggi Tu cosa avevi? Cim cim Allora il P20 Lite Hai preso Quindi ok Poi mi fai sapere Se ti è piaciuto Come te l'è Non so Mi sa che non riesci a Muoversi C'è qualcuno che ha lo Xiaomi Senza H Che dolore Perché Xiaomi Ormai non è più Pasquindustri Bene Aveva un Galaxy S5 Vabbè Molto vecchio Molto vecchio Ci sta chi abbia tirato le fuoche Anzi ti è durato Ragazzi Pasquindustri Mi dispiace Passeranno questi 20 secondi Eh sì Io ho Xiaomi da 3 anni E 0 problemi Io sto valutando Da un mese Di prendere Scusate per a chi non frega Dei telefoni ragazzi A me abbiamo preso l'argomento A me il Galaxy S5 Va che è una schifezza Vabbè Cornet Ha 96 anni Ma lo Xiaomi Cioè Si guardava il A2 A2 Non l'hai Perché Non ha la Miui La Miui La Miui Che In realtà È quello che È merda Cioè Merda Non ho Caspita Come caspita Sia Con il notch E' fatto veramente Di cazzo Andiamo a vedere Che è Kikko Con 27k Grazie Grazie Tiro Panana Dai Grazie mille Ma che figura Di pappa No Troppo Stai su Ok Eh no Figura di Mentos Niente Ho perso Tutte le posizioni Come al soli Pappa con 2 Non è vero Non 3 Hai detto Pappa con 2 Bonfi In che senso Bonfi Ti sei rottato dopo 2 giorni O ti dura 2 giorni No 2 giorni Dura la batteria Ragazzi Il Pocoform Mi fa ridere Non ce la faccio Franci Per protesi Vabbè Franci Ma tu non c'hai il P20 Lite Perché allora Dobbiamo distinguere Il Eh mi è durato 3 anni Ma se quei 3 anni Gli ultimi 2 anni Tu eri lì Arrancante A premere E non funzionava un cazzo E eri lì tutto lento Ma per te funzionava Allora no Va bene Funzionava di merda Grazie Kaneki Salmon Grazie Grazie mille Salmon Allora invece Il signor Maxetto ci dice Mi ha 2,64 giga A parte mancanza Di un paio di applicazioni Che trovo utili Nella MIUI Tutto ok Il telefono va bene Ho ricevuto Oggi l'aggiornamento Ad Android P Pi Non so come si dice La batteria è un po' carente Rispetto al Mi 4 Eh la batteria A me per esempio Mi interesserebbe Sia Non dicono Il Mi A2 Non dicono che è buona Ah no però Non il Lite No il Lite Dicono che è buona la batteria Il Lite C'ha 4000 mAh Cioè il Lite Ha più batteria dell'altro Solo che è deficita In tutto il resto Da quello che ho capito Più o meno Non di troppo Beh potresti prendere quello Mart Ciao Vale Cioè risparmieresti anche un po' No lo so E che appunto Vorrei capire bene la batteria Perché comunque lo uso abbastanza Adesso che vado anche in palestra Eccetera Spotify è sempre acceso Il pomeriggio Per dire Tutto il tempo Poi mettici Pokémon Go Mettici Instagram Beh ma sicuramente Non dura meno del Huawei Il P10 in realtà Come batteria Non era male Per niente No Non è per niente male Beh va bene Frank92 grazie Per la mia esperienza Ti dico Guarda che sfiga Ho Ho detto veramente Una sfiga incredibile Guarda che io veramente Sono un Un unknown Sì guarda No veramente Ma io non ci credo Io ho la su Zenfone 2 E a part E niente E a boll Che ho fatto però E a part E lo Zenfone Buono Zenfone Io ho sempre sentito Buono Cosa Ci guardiamo qualche regge Sì Pino È quello che abbiamo detto Che il light Ha più batteria Erano delle diarre Ma liquide I primi Beh magari adesso Sono migliorati Amici ma sono arrivato Alla fine Sono arrivato terzo Quarto Ah beh terzo Beh dai Non mi lamento Beh secondo io Non è vero Il Mi 8 di che cos'era Il Mi 8? Lo Xiaomi Ah lo Xiaomi Solo che C'hanno il notch E non ci sono le notifiche C'hanno i problemi Con le notifiche Perché sono dei coglioni Non so fare i telefoni Eh chi è stato giocato Esca Eh metti Trolla bene Le vibrazioni Le come si chiamano Le collisioni Che poi Deve andare via Io non evitarei Se dopo devi andare via Scusami Ma guarda te No no dai No Scusi Non ti asertare Non andare via Ma se entri Non puoi andartene via Scusi Mi spianto Dovremmo essere tutti nuovi Denuncio io Vedo No forse L'ammiraglio article Però che mappa metto Ok è uscito l'ammiraglio È tolto casa Poi boh Adesso magari Se non volete Puoi spammare in chat E se vi scrivete Da qualche parte Vi rispondo Con consigli Eccetera Che sicuramente Non lo compro Già entro stasera Mi vedrò un po' di recensioni E vediamo Il noccio è così fastidioso Negli Xiaomi Non la 2 Perché non c'hanno la MIUI Però Ci faccio due giorni Con 6 ore di screen on Ed addirittura Non compaio le notifiche sopra Cim cim Allora Il P20 Lite È buono sicuramente Cioè non è che è un telefono Da buttare Ci mancherebbe Anzi Come fotocamera Per esempio È una fotocamera Della Madonna Adesso non so se ti interessa La fotocamera Come fotocamera è molto buona Stavo guardando prima Che comunque anche come Come batteria Non è male Io ho OnePlus 6T L'ho caricato ieri sera In macchina Sono tornato a casa Prima di mezzanotte Sono arrivato a casa C'era il 91% di batteria Mi sono messo al pc Poi sono andato un attimino In cucina Mi sono scordato Di Prendere il cellulare Che ho lasciato in cucina Con Pokémon GO Con Pokémon GO aperto Alle due Sono andato a letto Eh The Flex Ci spiace Ho detto Cazzo Dov'è il mio telefono Sono andato a prenderlo Era il 71% di batteria Quindi in due euro Ho consumato il 20% di batteria Con Pokémon GO aperto E adesso E adesso Senza Cioè non lo ricarico la notte Io che non ho la presa Di fianco al letto C'ho il 51% Vabbè ma tu l'hai pagato anche Cioè nel senso Adesso Per quanto sia Quello che ti pare È comunque un telefono Che hai pagato Un po' di soldini Cazzo Marco È Un telefono comunque Che vai a pagare Dai 200 ai 300 euro No ma ormai Penso che Per le batterie Il telefono che non ti fa Un giorno di batteria Vabbè No è difficile Beh Il P10 lo fa tranquillamente Ti dico Già il P9 Lite Ha i suoi problemi Fare un giorno di batteria Da quello che Marco hai fatto un buca in culo? Sì Ah è vero Non l'hai passato in soldina E no è che l'ho concentrato Non ci ho fatto caso Però sì ho fatto un buca in 1 No grazie ammiraglio Si vede che è alimentato ad urani E non riscassa mai Grazie ammiraglio Non riscalda Io no Questo si poteva fare in 1 De palle Ma ora potevi colpirmi Che fastidio Porca puttana È una gioia Mi dà mai Mai una gioia Io l'ho messa Questa volta Ho ricontrollato due volte Eh cim cim Col P20 sicuramente Un giorno ti dura la batteria Ah sì Sono 3000 Miamper No sono Ma dicevano prima in chat Che sono 3000 No 3100 Sì mi sa Ho fatto una caccata Però una caccata Carina Non è stata Pesante Diciamo Quasi uno Non so se ci sono le collisioni All'ingresso Altissimo Per evitare il riscaldamento Se non ricordo male Mi sta truffando Qui l'ho messa Qui l'ho messa Qui l'ho messa Qui l'ho messa Ci sta truffando Comunque l'ho fatta con due Non è vero Bastardo Ma siete sicuri Che non ci sono le collisioni Che io però adesso Non lo so Non ho ancora colpito nessuno Simone Green Cube Grazie Mi è stato con Golf Anche sono crashato Per la connessione Mi spiace Con alcuni telefoni Ci puoi fare le uova Amici lo posso annunciare Io eh Cosa Lo posso annunciare Amici Mi hanno attivato La fibra Aspetta Ah ok Non l'hai chiamato Però L'hai chiamato Eh no Non l'ho chiamato Anche perché hanno attivato La fibra Nella mia centralina Ok Sì sì Ti spiega bene La spiega bene Poi sono andato a vedere Nel sito della Telecom Mi dice che Sì sì Quando una 7 mega Quanto pare hanno attivato La fibra ILC Ossia Quella aziendale Su richiesta Per Che paghi 1000 euro Era 1150 euro al mese Più 32 euro al mese Di attivazione Ah ecco Madonna Non posso Permetterla Come? No Vabbè Alla fine posso Permetterla Cioè Si paga Con i soldi del canale È una roba di lavoro Ma che dici Che dici È una roba del canale Si paga Con i soldi del canale E certo Scusami Scusami Non mi avete dato niente Delle mie bollette Tutti sti anni Che sto stermando Cosa vuol dire? Paghi tu No Allora C'è che pago io Che pago io È vero Però mica le usi solo tu Quindi Eh però pago io Scusami Pago io Pago io Fibra a 7 mega No no 7 mega è la DSL Arrivasse la fibra a 7 mega L'avrei presa comunque La cerchietta Amici Sto facendo i tiri incredibili Parliamo tutte le sere Che giochiamo a golf Che non ci penso Facci grandito Come dice la capina Ma ora sono quei 32 euro In più al mese Che No Mi fa fastidio Perché fosse stato per il resto Se no fai Eolo Non lo so se c'è da te Eolo C'è E c'è la mia fratello Eolo E va bene No lui si Sono prima con altre 13 persone Ma c'è la Vertian Eolo Per giocare a un live Però crasha ogni tanto Vertian Eh si E comunque sarebbe una 30 mega 3 mega Vabbè Che per streamare 30 già puoi streamare No 3 di upload Ci può 33 puoi streamare Cioè non come me Mi sa Però Non ci sono le collisioni Allora secondo me Alcune mappe custom Non possono mettere Le collisioni Oppure ci sta truffando Dopo facciamo Io egolo 30 mega fissi E ping buono Per il gaming online Dice Cucciama e nubri E poi si chiama Cioè io di Cucciama e nubri Mi fido sinceramente Tra l'altro perché io sapevo da quale Andrassero Si quasi upi stasera Zitti Zitti Che multa che Ancora mi ha chiamato una sega Dove bisogna andare? Ah Mary Tu hai tutt'altri problemi Guarda Vabbè Gli piace Apple per esempio Esatto Non vedo Allora sono figura di sesso Non vedo Non lo dire Morelli Che magari Poi ti imbarazzi Allora Cacca Ma testa di brazzo 3 tiri Ma come Grerit Vabbè Mary Ti voglio lo stesso bene Per carità Ebbè Guarda Martina Aglie Zara Ma come è possibile A Milano dovrebbe essere Ma non è vero Anche Monza Dicono così Ma non è vero Non è affidurata neanche Monza No Allora Se cerchi online Nei volantini Dappertutto Monza è piena È tutta affibrata Non è vero Te lo posso assicurare Perché Non è vero E che poi Magari hanno fatti lavori Per tutta Monza Ma poi non arriva a tutti La centralina Quindi non Però sì Diciamo che tre quarti Di Milano dovrebbe Tre quarti Tre quarti Di appartamenti milanesi Dovrebbero avere la fibra Poi bisogna vedere Come mi arricci i capelli Mary Io ti voglio bene Fantastico Scemo Stavo andando in un'altra busta Ho fatto veramente Una figura da cicciamanubri Con tutto il rispetto Perciò c'è manubri Che sappiamo Allora sono veramente Un bastardo Io Anche io Forse no No Sì Sì No No Vanni dice che nel suo quartiere La sta mettendo adesso A Milano Per esempio Da me Forse mettono Quella in Mi aumentano il download Dovrebbe passare A 300 Da Da 100 Ma me lo dicono Da 4 mesi Per cui non lo so Poi vabbè Download in realtà Frega Però c'ha tutto C'ha pure l'infostrada Ma probabilmente Se cambio compagnia Ce l'ho anch'io La E che non voglio fare Non voglio fare Sto e bio Semplicemente No Infostrada non puoi vedere Perché sono a Milano Io adesso c'ho Team Dovrei vedere con Vodafone Perché non ho visto Vodafone Mi fratello ha fatto Vodafone Gli va alla Non mi ricordo se Alla 300 Ragazzi Io ho la 100 mega Quindi c'ho 100 122 20 Però mai 20 Quando faccio lo speed test Sono 80 83 22 Che buono E' ottimo Cioè Tanto 100 Non ce l'avrai mai Quindi Ho provato l'altro giorno Dalla play Scaricava 33 Mega al secondo Dalla play Che di solito Nerf anche un pochino Niente amici Stasera mi dovete fermare Sono veramente uno stronzo Stasera sono veramente forte L'ho detto ormai Io arriverò l'ultimo Vabbè Bannidiot Anche Amoro Fanno i lavori da 4 anni Però A me la fibra La fibra L'hanno stesa Esattamente due anni fa Credo Mi pare O due o tre anni fa L'hanno stesa Quindi la fibra C'è da due o tre anni Poi l'hanno attivata Solo ora Per le aziende Te la richiedo No a mille euro al mese E' purtroppo consigliare Delle compagnie per la fibra No Non vuol dire Non vuol dire niente Non vuol dire Beh già parla di loculo Lieza Come sei triste Poverini Fali vivere qualche anno Ci segue Grande Io ho fatto un tiro Della fallo Ma dove bisogna andare Non l'ho capito Andare là Guarda Ho rifatto un tiro Del fallo Ma stronzo Sono veramente Bravissimo io Ok Stai buono Stai buono Ok E mi toccano Massima potenza Ma non è legale questa cosa No 2 mega scusami Avevo letto un'altra cosa Scarichi a 2 mega Ho capito che avevi la 2 mega No scarichi a 2 mega vuol dire che hai la 20 mega Che ti arriva giusto 2 mega Se hai la 20 mega No ha scritto 2 mega Non sarebbe legale Scusami non ha senso Se hai la 20 mega e scarichi a 2 mega E quello che scaricavo io è quella effettiva Cioè più di così è difficile che arrivi Ciao franchino Se il download ti va a 2 mega Che ti possa fare il ricordo 2 mega Io però la 100 Scarico a 6 Va bene è anche gatto Scarica quella cifra lì A me Io scarico a 10 Anche se ultimamente Steam fa un po' le bids Lorenzo che succede? Beh dai Ciao lasagne Ogni tanto ripasso Sono molto contento lasagne Ah che vedi che bello Eh infatti beat a bite Occhio Out of time Ma che sfiga Lorenzo Sei veramente fortissimo Non dire non dire Circa 16 mega Sì primo Sì ma non dia di dirmelo Che mi sento ciucciato Ma dov'è la buca? Si può andare Vedi ho fatto una figura del membro No non si può mai andare Ho fatto una figura del membro Morelli Se sta di taci Eh di là si può Vedi In realtà anche di lì Dove sta andando? Vedi la si può fare con 2 però Eh io non l'ho fatta la farò Io sto provando Guarda che figura di post-it Electronic Sono Francesco Sole Ora Ah electronic E scarico a 90 Vabbè 90 mega al secondo è giusto 9 per 8 Ma non dite che ho già vinto Ma per favore Tenetevi le bocche nel sedere eh Ma dove è andato a chiedere l'ho visto Ma guardate Eh Marco Marco Qui hai fatto la cappella eh Sì Ammetto Ammetto Eh si ho fatto un po' di cacate Ehm Ci sono le carte di guine Le carte di u-gi-oh ci sono Ma no Oggi non sono proprio i giocati Porca putana Bebe Con 2 Con 3 Guarda con tutti questi cazzi in testa la gente Ma perché la ticina rimane? Ah ne va a porto 877 siamo Grazie belli Siete molto gentili Ma questo è un piccolo giullare Le zard che succede? Mi hai preso il potere? Ma non lo so Mi hai preso il potere? Ma porca vacca Allora io non ho capito niente di questa mappa Ma porca vacca non si può fare Ma perché esco sempre? Come sei uscito? Ah ok pensavo della partita No sono uscito Ah ma che dito nel sedere che mi son preso col bicchiere Col bicchiere addirittura Cacca dura Ah Merda Eh ma non si può fare Devo avvicinarmi mi sa Ho sprecato due tiri Sono stupido Eh no bisogna avvicinarsi si Deve essere proprio al limite della Non si può fare E invece Io ce l'ho fatta Eh ma tu non eri dove ero io Si vede Sono uscito Eh no Niente ragazzi Faccio caccare L'avete detto Ma l'avete portata Niente faccio caccare amici Basta sono ultimo Ma è colpa del pubblico oggi Frega niente Certo non puoi raggiungere me No guarda è colpa Non sto entrando È colpa del pubblico Me l'han tirata eh Guarda Ma oggi è colpa vostra eh Ma guarda Ma guarda Non è possibile È una vergogna eh Ma patatacacca È colpa degli altri qui eh Non è colpa mia Cacca di Sono nell'altra mappa Funziona E ma devi parlare da qua E devi parlare E niente Marco Marco È finito Marco Metaclassifica Marco Adesso sono contro Giancarlo Eh vedi Almeno sei già con me Dai Onzi Brondi Brondi No Ehi Magico impressionista Con due Come con due Sono già quattro Che che l'ha fatta Giancarlo Fistalloni E lo fate in tre Ne avete portato veramente sfortuna tutti quanti eh È fatta Oggi sei magico È certo Oggi sono mandingo Altro che magico Il concetto Il concetto di Fistalloni Chiedono Moro Il connetto Il collocono di Fistalloni Sì Il connetto Senti che Della musica Allora Andiamo Velocissimi E niente E ho sperato di fare il tri No Un triucco Quasi Secondo me si può fare Cacca dura Ma dai Questa è la sfortuna Potevo fare peggio Ma potevo fare molto meglio Andiamo cauti Con l'incautella Ma testa di cazzo Che figura del fallo Che ho fatto Double boogie Torniamo a parlare del più del meno Sì sì Allora oggi ho Allora Ho giocato Parliamo del bullying Allora Ho giocato un bullying E Chiaramente Ho Perso Perché Faccio cacchiare È bullying Ma Ma Era molto bello Il bullying di Bicocca L'ho provato dopo tanto tempo L'hanno cambiato tutto al neon Sembrava la skin di sombra Sembravo Molto bello Molto bello Complimenti Bicocca Che fai cose belle Ho fatto le ranked di Overwatch Le ranked? Le ranked Quali? Quelle vere O quelle della 3D3? Quanto sei arrivato? E ne ho fatto 5 ancora Me ne mancano altre 5 Come sei messo? Bravissimo Tra l'altro Straccia Ma hai giocato da solo Eri con qualcuno No con Ale Cap Ale Capitano Allora siete fortissimi Io ormai Tra l'altro Una Aspetta Qui ci vuole Qui ci vuole il concetto Di fistallario Poi bisogna cadere Ora allora Aspetta Ragazzi io mi tolgo i denti Figura del pazzo Comunque una addirittura E' durata Meno di un minuto Ma è andata stra bene Allora Abbiamo proprio stracciato i culi In quella partita lì Ma scusa Ciao Albion Ciao Albion Chi l'ha fatto Mauro? Scusate Sono andato nel giusto posto io E sarà durata 30 secondi Io sono partito Ho preso Reynard Sono partito Sbattendosi nel cazzo di tutti Sono andato in base E mi ci sono puntato Sto provando dell'amore sessuale Nei tuoi confronti Dopo questa cosa Marco dopo devo rancarmi Quindi dopo 5 partite Ranked si fanno Non dobbiamo guardare video Degli smartphone Ma che tiri del manga Che sto facendo Certo niente Tornadoo Come non hai mai capito Cosa sia le ranked Sono le classificate Le Quelle che fanno i grandi campioni Sono un pagliaccio E ci sono in qualunque gioco Aspetitivo No sono già Vabbè ragazzi Mi state veramente dicendo Mi state veramente Consigliando il bullying Indilissone A me che sono di Monza Ci ho fatto l'infanzia Anche io ci ho fatto L'infanzia Questa È terra di rose Ammiraglio Arctic 1,50 euro Dopo un anno Che vi seguo in sordina Esco finalmente dall'ombra Questa donazione Anche per le poche risate Come poche risate Anche poco Ah scusa Scusa E' terribile Grazie Grazie mille Ammiraglio Anche a tutti quelli Che lurcano Noi li vogliamo bene A tutti L'urcano vuol dire E guardano Senza scrivere in chat Non A differenza di lucrare Che invece è un'altra cosa Hanno proprio i guardoni Quelli Che guardano Quindi siete tutti Dei lurconi Esatto Voi che siate lì Però vi amiamo noi Eh Io li amo però Guarda Ah Era un maiale Faccio sesso Grazie a tutti Grazie a tutti E' per quello che non scrivere E' per quello che non scrivo Perché non riesci a fare le cose Contemporaneamente Dove devo andare Sesto tiro Sesto tiro Già L'avete tirata in chat Ragazzi Oggi mi dispiace ma è colpa vostra Non ci metto bocca io Nella mia sconfitta Marco dai Sei risalito Torno subito giù Guarda E' l'ultima bucca questa Chatta come Ah ok Per la PS4 Esistono Army of 2 Esiste ancora Army of 2 Non c'è Army of 2 Per la PS4 Che cazzo dici Io ci divertivo un sacco Ad Army of 2 Sulla PS3 Ma guarda Vince Giancarlo Fistalli Eh io sono Giancarlo Fistalli Dei miei Coglioni Fistalli Amici Manca ancora un bel po' di tempo Farei un'altra partitina Con la base Con le collisioni Con le collisioni Grazie E ok E on Stia Miseria Va bene Gli Ezzar Va bene Ovviamente scacchiaggio giù Guido Grazie a tutti Rientrate Rientrate No Nel senso Quelli nuovi Siamo di notte Bravo Gli Ezzar Oh il mio telefono senza cover Com'è liscio Com'è morbido Collisione Pocket League Il schermo condiviso Guarda che forse si È una modalità Ok Ma perché mette con i sogni off Ma amici vedo che tanti Mi avete scritto anche su Instagram Che hanno rivisto la live di Battlefield Tutti Non arrabbiati Però infervoriti col fatto che ci sono le donne E ai tempi non era possibile Ma a me non frega niente Sarò io che Boh È sbagliato a livello storico Perché le donne in cucina devono stare Ma Il sugo No allora A me non frega niente È vero È sbagliato Perché magari in quel periodo Magari In quel periodo non c'erano le donne in guerra Ma il padre fate a scopare Andate Ma io mi dissocio Non è storicamente corretto Ma vaffanculo Ah ok Ce l'avevi con quelli che No però Tanti mi hanno anche scritto su Instagram Dopo la live Perché poi c'è stato un po' di discussione Le donne To Battlefield Ah ecco E A me non veramente Anzi la trovo una cosa carina Puoi fare il personaggio donna e quello maschio A me non frega veramente niente amici Ma zero La trovo anzi una cosa in più Ok Non sarà Non so che l'ha presa bene Ma perché Allora se dobbiamo Fare le cose Perché non ci sono Hitler Mussolini Stalin Ma chi se ne frega Voglio giocare Io non mi frega Che ci sia Tutto corretto Al cento per cento Di tutti quelli che si sono lamentati Voglio sapere Chi ha veramente Ha giocato la storia A parte che voglio sapere Chi di quelli si lamentano Ha comprato Butterfield Prima di tutto Perché secondo me Nessuno di questi L'ha comprato Beh magari non l'hanno comprato Come per quello Ostia Veramente deve essere Cioè ci sta No in realtà Per me Per me non ci sta Però Ok È una tua cosa Anche perché vi perdete Vi perdete un bel gioco Perché ci sono veramente divertiti È un bel gioco Multiplayer Vabbè Gianmarco È stata una cosa che Cancelliamo Questa è Oh ma quanto dura Allora Chris Non puoi paragonarmi Il fatto che ci siano le donne Col fatto che io ho detto Che il cecchino da vicino Non sciotta Non c'entra niente Cioè Quella è una cosa A livello fisico Che mi dà fastidio Perché sparo Deve morire Perché è un proiettile gigante Che ti entra nel corpo Il fatto che ci ha Per favore Non diciamo cagate Chris Gerrach Meister Che è donna Riccardo Dice Questa piccola opera Di bene E per tutti i termotironi In particolare Per Mark Che Che qualche giorno fa Mi ha risposto Sì Riguardo all'argomento Anime Con Fare Da professorone Marco Se non fare Questo Vedi che fai le figure Poi Non mi ricordo niente Eh Ci sono le collisione Ma perché non le mette Ho capito Ma allora dai Comunque dubito fortemente Di Hulk Meister Anche perché In genere Quando mi consigliate Roba sugli anime A meno che non mi dici Slumdunk E uno spocon di calcio E lì ti dico No Rifatti gli occhi Ma senti Che figure Che fai Dai Vabbè Fortuna che non gli ho risposto male Mi segno il nome Dopo gli scrivo culo In chat privato Questa scusa Questa è una cazzata Goal Ma anche la versione base Era così E non ci sono Comunque le donazioni È stato molto gentile E professionale Dice Di Hulk Allora l'hai scritto Veramente male Sembrava che ti avessi Avessi fatto Il figo Come hai fatto Da scritto No ma non mi ricordo Di cosa Cosa mi hai chiesto Ah l'hai letto tu Non lo so Perché stiamo guardando Non lo so Cosa ti avevo scritto Vediamo Che figure Guarda Scusa Non mi ricordo Ah che c***o Le collisioni ci sono Ah vedi ci sono Non è vero Come l'ha detto Moro È colpa di Moro qua Di Hulkmaster Ma quindi ci sono Ma male però Non è che non ci sono fatte bene Quella non dipende da me Comunque domani poi No 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 Sono appena passato Attraver Ah no forse era uno Che aveva già segnato Eh fatti Lì c'è anche Il bag di guerra Ah mi hanno toccato Sì ok Tac Gol Unicamente domani Martedì quindi sì Beh a volte Una fette di giocatori Si appassiona alla storia Grazie mille per questo Comando Allora Siamo parati di Tocchio Vol Quello vuole essere un complimento Tutta colpa di Moro Volevo farmi un complimento No No mi hanno spostato Maledetti E non Mi ricordo perfettamente L'argomento Perché Eeeh Ho risposto un po' di robe Su Tokyo Ghoul Però Diciamo che Tra i vari manga Non sono proprio Quello più adatto A fare di Tokyo Ghoul Perché sono Ho visto l'anime L'anime non c'entra Perché gli fa cagare Gli fa schifo No non è vero Non è vero Fa cagare Amici da qua come funziona Non si può fare Devi tornare indietro Marco Sola sparo fortissimo Un gol Ma parata Ma guarda Che culo Marco Lo rifaccio Roberto Bolle Goal Avevo letto Cerchietto nudo E non capivo Invece era una Perché l'ha taggata Comunque bo A me la cosa delle donne Non dà fastidio Anzi No ma l'ha fatta Ed Ma che E' una cosa in più A livello di customizzazione Secondo me Poi in parecchi giochi Mi piace fare il personaggio donna Non so perché Tipo in S4 League Avevo il personaggio donna Mi può Sfigurare Pallo O nero Nero sempre Perché vabbè Fissa con Kobe Bryant Jordan eccetera Però Anche donna Perché più che altro In alcuni giochi Dove ci sono le skin Quelle da donna Mi piacciono di più Ma che mi puoi dare una spinta No Mi ha parato Purtroppo Sono sfigato Ma basta Ma non è possibile E in S4 League avevo il personaggio uomo E il personaggio donna Perché alcune skin Le preferivano il personaggio femminile Grazie Upcycle Molto Sessuale No io e Moro non abbiamo finito Gli Azer si No Moro forse l'ha quasi finito Red Dead Redemption No Moro l'ha anche finito Non l'hai finito Io non ho neanche la play attaccata Capitoli che l'ha fatto capito Sono 15 ore È abbastanza Sì Gli ultimi capitoli E appunto Lo prenderemo con L'online Adesso quando l'iscio Everyone is John È sicuro Dobbiamo rifare Anche Pokemon Showdown Voglio rifare qualche sera La prossima 12 ore magari Anche se Non sono buono Però Dai Dark Mark Avanti Su Dicevano le due Erano le miglior Ah ok Ah si Vita da slime Dici Redemption Lo sto guardando Lo sto guardando in anime È molto carino Sì sono d'accordo È una bella idea È carino Spero che non duri troppo Perché potrebbe Per i poteri che ha E tutto quello che succede Ma Dark Mark Allora Potrebbe diventare Se non lo chiudono A una certa Potrebbe diventare Ripetitivo E un po' Noioso Quindi spero che abbia Una chiusura In tempi brevi Però è molto Sono d'accordo È una cosa molto divertente Molto Molto carino Peggio di caputo Poverino Corn Che al fantacalcio Non gliene va bene una Ma Pertanto non ho visto il risultato Ma ho vinto io O vinto lui Io non ho visto Perché potevo vedere Solo i miei risultati Dall'app Quindi non Corna hai vinto tu Vinto io Credo Hai vinto tu Perché lui Aveva l'Atalanta È andata male L'Atalanta Io non ho messo Neanche quello che ha fatto 15 punti Neanche io L'avevo messo in un altro Fantacalcio Faccio veramente cacare Da quando mi avete detto Che vincevo Comunque Io ve lo dico Siete maledetti Perché pareggiano Ah va bene Io sono veramente Più stronzo di Marco Devo vincere anch'io Corna Se mettevo Non mi ricordo Come si chiamava Keita Keita si Fatto 15 Ha fatto due gole Un assist Cominciate a chiedere Che squadra ti fiamo Io banno tutti Ve lo dico Non si può parlare Di uno spot Non che dei Lakers Dei Lakers se lo dico Forza Lakers E lo viola tutta la vita Eh Quindi Eh ok Stavo aspettando Il momento propiziatorio Eh Anch'io Mastro Ho lasciato Mamma mia Che squadra colera Io ti vorrei bannare Inksis Beh non lo farò Dai Adesso arriva Moro Lo faccio io Eh si Dai Guarda Era uno dei motivi Per cui potevo Non tifarli Lakers Quest'anno Lebron È proprio il contrario Invece Devo dire Che Lo sto apprezzando Molto Negli anni passati Non ero troppo Un estimatore Di Lebron Per vari motivi Che avevo già spiegato Invece quest'anno Sto vedendo molto leader Molto Molto bravo Quei ragazzi Mi sta piacendo Veramente tanto 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 Mi sono tanto Ricreduto su di lui E invece mi è sceso Un sacco Durant Comunque Chiusa parentesi Sono inizi a parlare Però Semplicemente Tu ti crei una squadra Con un'asta A base Con gli altri Con cui gioca il vantacalcio Tu metti La tua formazione In base ai punteggi Che vengono dati Sui varie riviste O In base a quello Che scegliete voi Fa più punti Quello è Qui c'è il triucco Lo faccio io il triucco Amoro Che figura di Berta Oh All in one Ti è sceso duro No Durant Durant Kevin Durant Anche io buco in uno Pipozzo Mi spingete Ma pipozzo Sei arrivato giusto Mentre parlavo del basket Guarda Mi leggi proprio Nelle putende Tanto ci manca Dobbiamo correre Con questa mappa Se non la via Ma io faccio caccare Posso correre piano No Non è vero Che da solo Daniel Non è vero Mi spiace È il classico commento Da uno che non sta seguendo bene I Lakers Quello lì Te lo posso Senza offesa Però è Veramente il commento base Di uno che non sta seguendo I Lakers Ma è stata un'inculata questa Maledetti voi E chi vi segue Ma chi mi ha spinto Bastardi Mi state toccando solo voi Comunque No no Per Francesco è facile Come C'è Quanta calcio Base La storia è facile Io vi ricordo Che McGee È il miglior stoppatore Della Lega Praticamente Pokémon Grazie Maolo Grazie Ma Bugs Bunny Gioca ancora a Busk Lo mastico Che sapore Mi spingete Amici C'è un ragazzetto Bravissimo Si chiama Michael Jordan Secondo me Ma spingetemi il fanno Niente Non mi spinge nessuno Ho fatto beardie Ho buttato fuori Official Shun Amico mio Guarda come è nuota Official Shun Ok Mi spiaceva un sacco Anche due di sacchi Garrigo Sacchi Di limitazione C'è come che tossisci il radio Eh McGee è veramente un mostro A stoppare Molto Larry Beard Chi è Marco Un giocatore di basket Si Dei Boston Celtics Molto Cazzo Era anche in Bugs Bunny Era l'altro Si Non era quello Che poi entrava alla fine No aspetta Vabbè Daniel Sentini ma cosa c'entra Non è che se ho di Lakers Devi dire Devi dire C'è Lebron Allora gioca solo Lebron Ti fan cagare i Lakers Dì che non ci stai Cioè non dire niente Piuttosto Non è che devi dire No Nel film c'era Si nel film c'era C'era anche Car Malone No Car Malone Scusami Charles Barkley Post Malone Si C'era Irving Mi pare Questa qui Ha un'idea del cazzo Questa mappa Chi l'ha inventata Il fatto è che tu hai detto Tanto Lebron gioca da solo E ho capito Ma se mi stai dicendo che neanche segui l'NBA È veramente un commento stupido No no Barilotto Sono d'accordo Non è assolutamente il centro migliore della Lega È un ottimo stoppatore È un ottimo difensore Ma non è assolutamente il miglior centro della Lega Siamo tutti d'accordo su quello Anche perché farei fatica a trovare il miglior centro della Lega Non lo so Ci dovrei pensare un attimo Olo Alford mi piace molto Poi c'è Anthony Davis Che spesso lo fa bene C'è Attento Colocco un po' Che mi sa che ha la grande Carl Anthony Town Non lo so Ce ne sono un po' bravi Che buco del culo Dai buca in uno Sì Amici A voi non vi ha fatto Allora amici È uscita una notizia A proposito del NBA Lo dico veloce Allora Dwight Howard Da quanto pare Ha avuto una relazione Con Un transessuale Secondo Alcuni Questo transessuale Ha parlato di una relazione Con Dwight Howard Che lui l'ha trattato male Lo tradiva Ma non è questo il punto Il punto è che Da qualche mese Questo mese Howard è infortunato Per un dolore Al sedere Ora La gente ha cominciato A fare battute Su Instagram Ha fatto battute Sul fatto che sia colpa Del transgender Che Ora Mi ha fatto molto ridere Questa notizia Più che altro Perché l'ho letta Su vari giornali E sui vari giornali Riportavano il fatto che Riportavano questa battuta Io l'ho trovata anche Un po' di cattivo gusto Però mi ha fatto ridere Sinceramente Perché Ebbè Ora Io so che te E' effettivamente Una notizia molto particolare Che bel tiro Che c'è C'è un po' di spawn Poi non parliamo Di Howard come giocatore Che mi fa cacare Ultimamente Che figura di merda Fa spinto Qualcuno si ricorda Rosa Dove diamo in andato Ragazzi Derrick Rose Sta tornando a essere Un ottimo giocatore Io vi consiglio Di tornare a seguire L'NBA Perché quest'anno Mi sta davvero divertendo Un sacco Sta tornando a essere A buoni No Nate Robinson Era il giocatore Piccolino piccolino Che però schiacciava Non è lo youtuber Non era Preston No è Nate Giustamente Però insomma Sta andando molto bene A Minnesota Rose Sì sì Dove la segui Sky o altro Guardo gli highlights Su YouTube E basta Perché non lo guardo I streaming Non ho Sky Neanche Nauti O Dazun Che non c'è troppo Questa era veramente Un'inculata Non parliamo di quello Che abbiamo appena parlato Di Dwight Howard Poi iniziamo a fare le battutine Non parliamo di Dwayne Johnson Fuccherino Sta simpatico The Rock Il mio prefero Io voglio baciare Terry Crew Invece Anche Terry Crew Mi piace molto Però di più The Rock Io sono veramente Un pezzente Si dice Dazun Non parliamo di Denzel Washington Qualcuno ha leftato il game L'ho visto io Eh Beh Facevo l'ultimissimissimissima Dai L'ultima Chi vince questa Vinco io Comunque Perché sono Eh sì Sì Ah vincito Ma dove la La buca è Il migliore Ah è dietro dietro Che figura Dementos Ma chi è stato Bastarda No ragazzi Sì Cioè Io non guardo le cose In streaming Lo ho già detto Grazie amici del capo Quindi è inutile che mi dite Io le guardo in streaming Non le guardo le cose C'è un fungo Non vedo una minchia E va Fanculo Ahia Ma chi è Sono pagliaccio Ma chi è mi fanno perdere adesso Allora eh Gatto è partito prima Guarda che mi sparano in giro Eh bene Speriamo questa Tanto abbiamo quasi finito amici Ma guarda che sfigurano E allora guarda Siete tutti veramente dei E il gran parata Invece Carlo Azzelio Chi è stato? Jumping Chi è stato? Io non so stato Official Shun Capito che hai vinto Ho preso la traversa Ho davvero preso la traversa Guarda guarda L'hai fatto eh Official Shun Solo per non farmi vincere Io non sto vedendo irregolarità Amoro Non so cosa dici E tu che stai sbagliando Lui sono stato io Carlo Azzelio Chopper Guarda adesso mi colpisce Lo sapevo Io non ho visto niente del genere Ma senti come Guarda che mi fa remando contro È un amore invisibile Ma porca vacca Guarda che in realtà potresti perdere Sì c'è Nauti V Che fa le partite Quattordici perdi Mi remano contro No però io le guardo dal canale youtube Delle miei Niente hai fatto Hai fatto quattordici Cosa succede? Ho perso amici Sei fatto seconda Non è vero Sono primo No Sì No non è vero Io vedo 47 47 Sì purtroppo Niente Sono perso Grazie a 10 Sono al pelo di Carmelo Amici Andate da gatto E gli dovete dire Una cosa importante Moro Sì una cosa importante Moro Vai Ciao bellino Ciao bellissimi Buonanotte al cacchio Ciao 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 Ciao